La gioia è tutto in questo momento, nella corsa verso la figlia che non vede da un anno, nell'abbraccio, nelle lacrime e nel silenzio tutto attorno. Makan dopo un anno ha potuto riabbracciare sua figlia, che ora di anni ne ha due. La divisione in Tunisia, quando la piccola aveva 11 mesi, al momento dell'imbarco per venire in Italia, Makan aveva dato in braccio la terza delle sue figlie a un altro migrante, ma quest'ultimo non era riuscito a salire sul barcone e ha ospitato la piccola per circa un anno, dopodiché la piccola con un altro barcone è arrivata a Lambedusa e grazie al centrosai di Ribonati, alla cooperativa Terzo Millennium guidata dal presidente Antonello Calandrello, è stato possibile questo miracolo, il ricongiungimento, un miracolo ottenuto anche grazie al lavoro della questura di Salerno, della Croce Rossa Italiana della Prefettura. Eccola la gioia di Makan dopo aver riabbracciato la figlia. Missione compiuta, allora, come stai? Sto bene, molto bene, sto felice! Felicemente bene! Grazie mille alla cooperativa! Per permettere questo ricongiungimento, nella giornata di ieri una equip della cooperativa con la vicepresidente Carmen Rubino è partita dalla campagna verso la Sicilia, 20 ore di viaggio che hanno portato al compimento di questo abbraccio, un viaggio che ne valsa davvero la pena di vivere.